Prima di iniziare questo video, vorrei gentilmente ricordarvi di premere il pulsante, iscriviti, e di lasciare un bel mi piace. Vi ringrazio per il vostro supporto. Ottobre si prospetta come un mese più gratificante per i pensionati italiani, grazie agli ultimi aggiornamenti sui conguagli degli arretrati e un modesto incremento nelle somme pensionistiche. Questo annuncio sarà di grande interesse per molti cittadini, e ora vi spiegheremo quando potrete aspettarvi i pagamenti e quando sarà possibile recarsi presso gli uffici postali per ritirare la pensione. La data di accredito della pensione per ottobre 2023 è fissata per lunedì 2 ottobre, un giorno da segnare con attenzione sul vostro calendario. Questo rappresenta il primo giorno utile per ricevere l'accredito direttamente dall'INPS o per recarsi alle poste per il ritiro dei fondi. Come da prassi, quando il primo giorno del mese coincide con una domenica o un giorno festivo, è necessario attendere fino al primo giorno lavorativo successivo. I beneficiari delle pensioni INPS per ottobre 2023 vedranno un leggero incremento nei loro pagamenti, soprattutto se non hanno ancora ricevuto gli arretrati relativi ai mesi precedenti, che ammontano a circa 250 euro. Inoltre, coloro che hanno presentato in ritardo la loro dichiarazione dei redditi vedranno anche i rimborsi IRPEF essere erogati, con inizio nel mese di agosto. Questi sviluppi costituiscono un incoraggiante sollievo per i pensionati italiani, offrendo loro una prospettiva finanziaria più stabile e garantendo che gli importi pensionistici siano adeguati alle loro esigenze. Grazie per averci seguito e ricordatevi di iscrivervi e mettere il mi piace, se trovate queste informazioni utili.